Ben trovati all'appuntamento con la rubrica dedicata ai principali cantieri attivi questa settimana in Campania. Sulla 1 Roma-Napoli dalle 22 del 16 alle 6 del 17 gennaio per lavori e chiuso lo svincolo Caserta Nord in uscita in direzione Roma, l'uscita alternativa consigliata e lo svincolo Caserta Sud. Sulla 2 del Mediterraneo dal 15 al 20 gennaio in fascia oraria 7.30-16 per lavori attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli siciliano degli alburni e contorsi in direzione Salerno. E ci spostiamo sul ramo di Capodichino dove dalle 22 del 15 alle 6 del 16 gennaio per lavori chiude lo svincolo Capodichino in ingresso in direzione della 1 Roma-Napoli. I veicoli diretti in autostrada possono immettersi sull'arteria dallo svincolo Doganella. Sulla strada statale Sette Appia dalle 22 del 15 del 16 gennaio alle 6 dei giorni successivi e attiva un senzonico alternato in corrispondenza della Galleria Salsa Irpina. Sulla strada statale Settecento Reggia di Caserta dalle 22 del 15 del 16 gennaio alle 6.30 dei giorni successivi per lavori chiude la Galleria Parco della Reggia nel tratto compreso tra gli svincoli Caserta Est-Ospedale, Caserta Ovest-Casa Giove in entrambe le direzioni. Ed infine sulla tangenziale di Salerno dalle 9 alle 17 di giovedì 18 gennaio per lavori di manutenzione nella Galleria Masso della Signora e attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite via Irno e Sala Bagnano in direzione Ponte Cagnano. Ebbene con questo è tutto, grazie per l'attenzione.